Romano sua salaria carica una brasiliana bellissima, altissima, a porta a casa sua a un certo punto come entra dentro casa di questa mignotta, bellissimo, tutti i divani bianchi dice ammazza che casa che hai, bella, bella mia casa ma non è finito qui vieni con me alla finestra e ti faccio vedere una cosa apri la finestra e gli fa vedi quelle palazzine là, tre palazzine, sono tutto mio, tutto mio dici davvero, ammazza, dice guarda queste tre palazzine di fronte a mia casa tutto mio, tutto mio, tutto tuo, quante cose c'hai, ma non è finito guarda sulla tua sinistra quelle palazzine in costruzione tutto mio, tutto mio, tutto tuo, mortaci tuo, ma tutti i cavi che l'ha fatto se c'avevo figa ero padrone del rumo